eribivolo o carnivoro eribivolo o carnivoro facciamo carnivoro e prendiamo prendiamo cosa facciamo ragazzi canno sauro ma vai andiamo con lui facciamo conferma lo facciamo tutto tutto nero tutto grigio quello che volete ragazzi attenzione devo fare questo canno sauro facciamo così va così conferma e anche attenzione siamo nel buio benvenuti ragazzi benvenuti velocità non siamo siamo veloci ragazzi 36 km orari buono siamo veloci per essere piccolini quindi va bene che hanno solo ragazzi molto bello a me piace il problema è che se non trovo un gruppo mi becca becca un t-rex qualcosa di di grosso sono morto caro no attenzione abbiamo un amico con noi due amici oh e ci voleva tanto ragazzi tre ore che lo inseguo e che lo voglio ammazzare porca miseria allora manciamo tranquillamente io non sto leggendo quello che stanno scrivendo di altri anche perché non capisco quasi un tubo ma adesso provo ad avvicinarmi a loro devo cercare una fonte d'acqua andare a bere quindi annusiamo vedendo ragazzi fa paura il mio canno sauro è qui perché tutto nero un po fa paura ragazzi devo ammetterlo quando diventa grosso sarà davvero allora vediamo un po acqua non ci sta all'acqua però vado verso di loro c'è l'acqua qua ragazzi c'è uno cibo per noi ma era uno che ora non capisco se questo era un bot che cacchè che di nuovo allora è questo qui non ragazzi era un bot boh intanto io bevo velocemente vado verso di loro stare vicino le fondi d'acqua ragazzi non è la cosa giusta perché via 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 ragazzi scappiamo da qua anche se c'era cibo lì vicino però scappiamo eccoli ragazzi eccoli ma guardate che sono belli ragazzi la c'è un erbivoro guardate guardate ragazzi mi sa che quello è forte con un colpo di corna qui di e poi c'è i piccoli guardate vorrei andare a vedere eh sì forse attacca andiamo a vedere ragazzi attenzione qui possiamo farci male forse attaccano ragazzi ma io non l'attacco ragazzi perché mi un colpo di corna di quello vediamo se possiamo non possiamo ancora evolvere che cos'è quel coso oh madonna ma chi è quello oh mio dio ragazzi ma fanno ma questa cosa non è normale ma sono entrambi a veglia sono in via del bivori no ragazzi scappo da qui ma che è no ragazzi io scappo scappo è bellissimo da dei dinosauri è fantastico non so se loro vogliono attaccare attenzione ce n'è uno qui vicino che vuole fare ho io paura che ci sto insieme a loro la vedo brutta ragazzi come ammazzano devo diventare più grosso comunque ancora sono 87 per cento sto insieme a loro eh ma io ho paura ragazzi ho paurissima ma qua ci fanno il panino ci ammazzano boh sono sembrano tutti amichevoli io non lo sono molto però ragazzi quando io divento più grande ragazzi io scappo qui ragazzi vorrei mangiare quel pezzo di carne laggiù niente non hanno attaccato forse hanno paure che ammazzano me ragazzi mi conviene attaccare quando siamo ragazzi tutti insieme cioè quando sono adulto anche io perché così non sono d'aiuto cioè non posso fare nulla comunque sono bellissimi mamma mia ragazzi il problema che adesso lo dobbiamo vedere di giorno perché di giorno non si vedete che ancora è notte non si vede nulla voglio vedere proprio i colori che ha il mio dinosauro qui 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.